L'ultima sfida ha messo di fronte i nostri ragazzi sul campo del Torino, dove il derby si è chiuso in parità con il risultato di 1-1. Partenza sprint per le ragazze di Mister Barone, in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco, grazie a Sekulov, protagonista di una splendida azione personale. Priva di tanti giocatori in nazionale e con una squadra con diversi elementi aventi meno minutaggio sulle gambe.